Non si smette mai di imparare. Le moto con il portanumero nero sono i 125, quelli con il portanumero verde sono i 250, poi ci sono le moto con il portanumero azzurro che sono i 350, poi ci sono le moto con il portanumero giallo che sono i 500 e poi le moto con il portanumero bianco che sono i 7 e mezzo, da ricordare. Ok? Vedi i 50, dove è? Oh ma dai, ma pergo, fa tenertelo su un po'. La bella compagnia, sono stati i grandi, cose più faciliti, dobbiamo andare a vedere il mondo, sono la carrellata. Tanta roba, ma non è venduta pochissima. Le prime quattro sono di Agra. Grazie. Carlo Slavato? Carlo Slavato. Ma è quella che usa ospedaletti, no? Lui è sempre in giro con stegli amafini qua gialli. È una roba così. Sì, sì, quella che dopo era lui è una roba così. Lui manca la moto di... Questa è una roba di nome, quello che abita qua dietro, numero 7. Ci sono le foto alle coppie. Pierfrancesco Chidi. E non ci sono le foto alle coppie. C'è la roba di e con la faccia. Ecco! Perusti. Questa è la roba dism Bethesda. Si, per... E' una roba di riccio e... Mi collega la coppie. C'è la roba di regionale, le peggio è una roba di ricetta. C'è la roba? Grazie. 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 Andiamo da questa parte, c'è una serie di moto miste di quelle che possono fare. a essere qui, purtroppo vi spiego un affare in bianco qui purtroppo è in realtà che la porta di domani non mi lascio se non c'era qui c'era la villa 2.50 e lo spero che sia la villa non mi piace qui c'era la villa ma non ha ci sono anche quei due line particolari ci sono anche quei due line che si hanno anche si hanno utilizzato per un gioco 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 questo è questo è la nostra di un gioco per 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 un gioco Grazie. Grazie. Ah no, dove c'è il cifo? Ah, ma no. Mia che bello. Bello, bello, bello. Andiamo giù. Qual è questo qua? Sette e mezzo. Bello, 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 bello. Andiamo giù. Qual è questo qua? Sette e mezzo. Questa è la prima quattro tempi Yamaha. Sì. Vederla così spogliata è ancora più bella. Ti rendi conto che ce ne ha due su e due tipo la Ducati che vanno giù. queste prese d'aria di bianco? Beh, secondo me, se la guardo questa qua è uguale a quella Ducati. si è presa d'aria così sbordiata. Probabilmente è tutta vestita. la Ducati. E si è sempre lì a 2002. E diceva che era quell'anno che... E questa qua mi sa che era di quel pilota che era sempre di un traverso. che era un australiano. No, no, era Gary McCoy. Che la metteva sempre di un traverso. Faceva tutte le... Era un australiano. Che era un pilota molto piccolino. Che però, vedi, c'è sempre questo... C'è un motocicolo. che mi fa... I problemi di che... ... in il numero... E dico per arrivare a andare da? Che mi sa... Che mi trovi per arrivare? Che mi trovi per arrivare a andare. Più per arrivare a andare. Più per le elevate. Chi lo hai più a andare. Vediamo. Tecnologia più avanzata. Vedete poi quando fa. Se... Ehm... quindi... Che va in buonca. Chi va in buonca. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.